Vieni giù, vieni giù, vieni giù tra i comuni mortali, fa niente, sta pronto, c'è tutto, un applauso del follo! Che si tratta su, la sua cordone! Allora, the next one, questo è un'ottima, addirittura, saliamo di livello, saliamo di livello, con un doppio tempo dell'altezza di una persona, noi non misuriamo più, in metri, in centimetri, misuriamo in persone e facciamogli un applauso, sui su su sui romani, è tempo, è tempo, è tempo ragazzi, 1, 2, 3, 3 tempo, vado, è tutto tuo, sfonda questo doppio tempo, come solo tu sai fare, è colpa degli applausi che mancavano, mancavano un po' di applausi qua, al ruolo! E questo è il tuo bambino, su su, buon mani, osse, 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 buon mani, ole, vai porno, tutto tuo! Un po' più tempo, la teccnica, su su, la teccnica più difficile del trial, con le tiri a 14, con le lumi che sono i denti! Per essere i nostri ostacoli, per fari lanciarti su sempre più veloce, è ancora una serie di annunci e droghe.